personali con Di Maio e con Grillo, vi sentite? Ah sì, tra l'altro Beppe sono andato a trovarlo questo weekend, sta benissimo, per cui ci sentiamo con tutti. Spesso i giornali raccontano del retroscena che faccio fatica a capire, però in alcuni casi magari sono basati su fatti di cui vengono a conoscenza. Avete parlato anche degli stati generali, l'ha visto propositivo anche su questo documento che è stato presentato adesso in Senato? Non abbiamo parlato di questi temi, però abbiamo parlato di tante cose. Senta, a proposito di retroscena, alcune notizie stampa hanno parlato di una bozza di contratto di servizio che lei avrebbe a fine settembre fatto per venire a Vito Crime, al capo politico, e che poi sarebbe stata respinta dal Movimento. E ci sarebbero anche state delle clausole che garantivano un maggior controllo sul blog, che poi è di vostra proprietà, il blog delle stelle. È vero? Guardi, è vero che questa ricostruzione è falsa, per come l'ha raccontata. È un'unizia stampa che è uscita. È vero che ci sono state molte richieste da parte di alcuni parlamentari di riconfigurare il rapporto. Questo anche da parte di Vito Crime, io ho sempre dato la mia disponibilità a venire incontro a qualunque esigenza che ci fosse, che emergesse, per cui ho sempre garantito la mia disponibilità, lato mio. Poi mi sembra che in questo momento ci sia una volontà di fare questi stati generali, piuttosto che di fare il prossimo voto del capo politico, qualunque cosa ci sarà successivamente. Penso che questa sia la cosa che ha frenato le attività che erano state messe in piedi. Lo so, li seguirà? Gli stati generali avrete un ruolo? Stiamo dando supporto in tutte le cose che ci vengono richieste, questo sì. Che tipo di supporto che ci sono? Per esempio oggi stiamo inviando mail a tutti gli iscritti per i vari eventi che sono stati organizzati a livello territoriale. Ci sono diverse cose che devono essere fatte anche praticamente per supportare questa cosa. Se lei si riferisce al post sul movimento, in realtà quello non è un post polemico, è un post che è un inno al movimento, è un inno ai principi del movimento, che spero vengano rafforzati, portati avanti e ci sia sempre un focus sul fatto che noi siamo movimento. Questo è il motivo di quel post e ho voluto semplicemente ricordarlo nel giorno del compleanno del Movimento 5 Stelle. Ha anche scritto che Rousseau adesso si apre ad altre organizzazioni che vogliono in qualche modo sviluppare strumenti di partecipazione e cittadinanza attiva. Questo vuol dire che dopo Rousseau dobbiamo aspettarci magari una piattaforma Voltaire in supporto di nuovi movimenti? Potrebbe accadere? In questi anni noi abbiamo avuto tanti rapporti con movimenti o organizzazioni di qualche tipo, politico o altro, a livello internazionale, che erano molto curiosi loro di capire come avevamo portato un movimento dalle piazze al governo, diventando la principale forza politica oggi presente in Parlamento. E noi eravamo molto interessati a come loro avevano portato avanti le loro iniziative, quali strumenti avevano utilizzato. Per cui io vedo una grande volontà di conversazione a livello internazionale su come i movimenti possono evolvere. Oggi c'è un grande focus su come le persone si possono aggregare attorno a dei temi. Queste aggregazioni stanno evolvendo in modi più diversi, non necessariamente grazie a organizzazioni strutturate, ma anche grazie a idee di singole ragazzine che magari si mettono e si siedono davanti al governo per chiedere delle politiche ambientali, come ha fatto Greta Thunberg che poi avvia i Fridays for Future in tutto il mondo, ma anche molte altre iniziative che oggi vediamo partire da un singolo evento e poi arrivare in tutto il mondo. Credo ci sia la necessità di capire quali strumenti di partecipazione civica possono essere utilizzati oggi per riuscire a organizzare queste cose che iniziano come proteste, ma che poi sfociano in iniziative programmatiche di governo addirittura, di cambiamento della politica, delle leggi e della cultura generale attorno a un certo argomento. È corretto dire che comunque la sullezione di Rousseau può anche guardare la realtà esterne al movimento in questo dialogo? Ma lo ha sempre fatto e lo farà sempre di più in futuro. Allora, l'associazione Rousseau...